Quest'anno siamo tutti contenti i regatanti in primis di questa edizione stupenda della Roma e ci siamo passati un giorno e una notte intera per prendere tutti quanti come nostra tradizione per accogliere i nostri regatanti con una bella boccia di spumante per festeggiare il loro arrivo. Mancano solamente quattro barche, di cui due solitari e altre due, e li stiamo monitorando in tempo reale. L'andata è stata un'esaltante corsa con molti match race all'interno della regata. Il ritorno è stato più veloce, con qualche bolla di calma e di piatta, ma presto superata. Siamo qui in attesa di ricevere tutti quanti i nostri grandi regatanti per ringraziarli, ringraziare le loro famiglie che gli permettono di essere qui e a domani la previazione.